Nelle varie serate di piazza uso la sigla Io Vagabondo, dove noi... Sì, è purtroppo che ne so che gli altri vogliono fare Io Vagabondo. Allora, quindi adesso di solito noi facciamo un bel cerchio, serve per essere una catena, tutti quanti insieme, è l'unico modo che abbiamo per ringraziarvi ancora di essere stati qua con voi. Quindi tutti insieme vi salutiamo così alla maniera nostra. Allora, i bambini non ce ne sono più di quelli che hanno fatto la comunione, sono andato a Dilla. Ok. Allora, io voglio ringraziarvi tutti, tutti e tutti, ringrazio anche il parroco che oggi doveva essere a Pornia per la via, per il Corpus Ono, invece ha preferito non fare la protezione a Pornia per essere qui con voi. Quindi un grazie a tutti, un grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti i mandi. 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 Grazie a tutti i mandi.